Ciao a tutti, siamo qua nell'azienda agricola Zauli Demis, che sono dei nostri ottimi clienti nella serra delle fragole. Allora facciamo una piccola intervista a Demis che ci mostrerà come si svolge la raccolta di questo fantastico prodotto. Ciao Demis! Ciao! Allora, qua vorremmo sapere una cosa interessante. La fragola, quando è il miglior momento per raccoglierla? Quali sono il momento che dici è pronto oppure no? Quando è rossa è luccicante. Quante volte, una pianta così, quante volte fa una buttata di fragole da raccogliere? Ma, due o tre volte. Certo, produzione, propria produzione, due volte. Due volte all'anno? Sì, sì. E che quantità può produrre? Settiamo anche i pianoni per gli storni, sottofondo. E che quantità? Questa qui è la varietà che si chiama? Asia. Quanto produce mediamente? 700-800 grammi a pianta. 700-800 grammi, costa. Quindi un cestino così, quanto pesa? 500 grammi circa. Quindi una pianta produce più di un cestino. Sì, su un cestino così facciamo vedere. Ecco la bellezza di questa fragola. Guarda che meraviglia. È anche molto dolce, vero? Sì, sì, sì. È una delle varietà più apprezzate per la loro dolcezza e per la loro produttività. E quanti anni le tieni su nell'impianto? Vediamo qua che abbiamo un impianto sotto serra, ovviamente perché le piogge non rovinano i raccolti. Noi di solito le facciamo tutti gli anni, le rinnoviamo tutti gli anni. Quindi tutti gli anni sono da cavare, però produrrebbero ugualmente anche l'anno successivo, vero? Certo, certo, certo. E la paglia, che qui vediamo che c'è della paglia, gliela metti per quale motivo? Perché che non si interina. Quindi che rimanga più pulita la fragola durante la raccolta. Qui vediamo che anche un altro operatore, Daniele, è un brutto lavoro perché devi stare piegato. Ci vorrebbero delle fila alte per poter raccogliere di pieni. Quello andrebbe molto meglio. Quindi un saluto dall'azienda agricola Zauli Demis e dalla Serra delle Fragole. Ciao, alla prossima! Grazie. 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 Grazie.